Sì, andiamo, non vanno qua, andiamo. Sì. Eh, non vanno qua, io pure. Sì, andiamo. Allora, andiamo. Dai, no. Ancora qualche minuto. Sì, andiamo a metterle di scarico. Dai, allora, andiamo a qualche minuto da qui. Sì, vieni. Eh? Eh, no, piano l'arte. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guarda qua, vieni qua. Guarda qua, vieni qua. Guarda qua. Guarda qua, vieni qua. Chi è? Ma chi è la mano, eh? Eh, secondo te? La bambina è mangiato. Sai, lei, lei, lei. Domenico. Domenico. Quanti anni stavano stavano? Se ne venivano prima di buttare così, stavano scassate. Noi sto parlando proprio. L'aereo no, volo. L'aereo è più semplice. L'aereo è più semplice. E gli elicotteri. L'elicottero è bello. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Bello. Si, si è chiaro. Una finta. Qui che porta l'elicottero insieme. Io la roda. La giocatta deve sapere. Io la roda. Domenico. Guarda qua. Guarda qua. Cosa ti può attendere l'aria di mare? Tu rimanesti. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Buongiorno a tutti. per forza la batteria si carica sono 7 8 guarda 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 hai visto? guarda i due vedi arrivi arrivi no 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 riusci 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 a lunga riusci a lunga